Muoversi fa bene alla salute dei più piccoli, dai lattanti ai bambini in età prescolare. Lo sviluppo di tutti i bambini richiede movimento fin dalla nascita. È importante favorire l'attività fisica spontanea di tutti i bambini mediante esperienze variate e giocose. Variare gli ambienti e le attività Sono molti i luoghi che si prestano al movimento. In alcuni casi, sono necessari lievi adattamenti per rendere accessibile lo spazio per il gioco e per eliminare pericoli che un bambino non è in grado di riconoscere. Evitare l'inattività prolungata Fin dalla nascita, si raccomanda di evitare il più possibile lunghi periodi senza attività fisica, interrompendoli con brevi pause di movimento. Il naturale bisogno di movimento dei lattanti va stimolato offrendo loro più volte al giorno la possibilità di muoversi liberamente in un ambiente adatto alla loro età. I bambini piccoli e i bambini in età prescolare in grado di camminare senza aiuto dovrebbero fare attività fisica da soli, con altri bambini o adulti almeno per 180 minuti al giorno più volte al giorno da solo o con altri bambini Sostegno e accompagnamento Variare le attività e l'ambiente L'attività fisica fatta più volte al giorno promuove lo sviluppo delle capacità motorie, cognitive e relazionali del bambino Si tratta di capacità che lo aiutano poi a fare movimento e sport a lungo termine e con piacere Grazie